Salve ragazze, benvenute e bentrovate, siete nel mio interattivo, quello lì dove appunto vado un po' a vedere le energie, le previsioni, le energie nei sentimenti, le previsioni senza fare una domanda. Vediamo oggi che cosa vogliono dirci, regalarci le carte, i tarocchi, gli oracoli riguardo la vostra situazione sentimentale, pensando a una persona, una situazione, insomma vediamo un po' le energie, cosa, dove ci portano, in che lettura ci portano. Quindi prenderò un po' di carte, così diciamo ho preparato un po' di carte qui, oracolari, le sibille e soprattutto i tarocchi. Ho deciso questa sera, ho scelto questi tarocchi che sono i tarocchi della Tripice Dea, sono dei tarocchi molto belli, vedete molto colorati, con delle lipografie veramente molto molto belle. E quindi con questi tarocchi farò, diciamo, la stesa, va bene ragazze? Allora, intanto vediamo, vediamo un po', andiamo a vedere qual è la vostra energia, ecco sì, quindi partiamo da queste carte e vediamo un po' che energia c'è per voi in questo momento. Allora, qual è l'energia vostra in questo momento in cui noi facciamo appunto la domanda. Quindi andiamo a vedere appunto di che energia parliamo. Prenderemo una carta. Qui abbiamo il potere dei fiori, quindi qua parliamo di una sorta di rigenerazione. Vedete, a fondo mazzo abbiamo la carta, va tutto bene, non ti preoccupare, sta andando tutto per il meglio. Quindi qua abbiamo un'energia vostra, molto propositiva. Probabilmente qui siete proprio in un momento di guarigione. Probabilmente avete avuto un momento un po', diciamo, teso, forse con stress. Vedete l'energia, il potere dei fiori, ci parla anche delle essenze dei fiori per aumentare il tuo potere di guarigione. Quindi potrebbe anche essere che in qualche modo avete avuto bisogno, avete fatto uso di fiori, di buck, perché no? Potrebbe anche essere. Comunque vedo che vi stanno diciamo guarendo, oppure anche state più a contatto con la natura. In ogni caso la carta di supporto è appunto va tutto bene, quindi non vi dovete preoccupare, anche se ancora vi sentite un po' così, perché vedete da questa carta io vedo anche un po' che voi quasi non credete. Vedete, questa ragazza sembra quasi incredula a una nuova, diciamo, situazione. Adesso andiamo a prendere queste carte meravigliose che sono la saggezza della strega, però sapete che questi sono dei tarocchi, ma hanno dei significati totalmente diversi. Prendiamo una carta e andiamo proprio a vedere questa carta di che cosa ci parla. Ah, qui ne sono uscite due. Bene, allora le terremo tutte e due. Questa sarà la prima. Abbiamo la carta della luna e la carta della papessa. Mettiamole così. Allora, io vi voglio, questo è come vi ho spiegato, anche se qua abbiamo la luna e la papessa, però i significati sono diversi. Quindi io vi vado subito a leggere i significati proprio in questo libricino, perché questo è un oracolo dove vi consiglierà un qualcosa. E quindi qua andiamo a cogliere proprio il consiglio. Quando appare la luna ci si sente richiamo della natura selvaggia. Cioè siamo chiamati a decidere di fare qualcosa. Cosa decidete di fare? Di rifugiarvi nella sicurezza illusoria della torre della vostra città o dirigervi in un rifugio di una strega nella sua casetta con le luci che brillano nella foresta? Allora, ovviamente non è che dovete fare questo. Però qua vi dice appunto non potete fingere che di dover in qualche modo decidere di fare un qualcosa. Quindi qua la carta vi dice guardate indietro e poi volgetevi verso la luce della luna e cercate con tutta la vostra essenza di decidere. Dovete sentirvi dentro di voi quel desiderio di crescita e dovete percepire la luna nel vostro corpo, nel vostro cuore, nella vostra mente. Quando vi deciderete di trovare effettivamente una vostra collocazione sarete cambiati, sarete liberi e sarete proprio benedetti e resi sacri dalla luna. Questa è la carta della luna, quindi questo è il consiglio che vi dà appunto questa carta. Invece per quanto riguarda l'altra carta che ci è apparso, noi non dovevamo sceglierla. Questa carta ci parla di misteri femminili, quindi è molto femminile questa carta. Ci parla di sapienza, di destino, di visione sagra, di magia. Il consiglio è quando incontrate la sacerdotessa vi chiederà cosa vuoi sapere. Meditate bene sulla risposta da dare. Cosa avete davvero bisogno di sapere per creare il futuro che tanto desiderate? La sacerdotessa indica il vostro cuore e la risposta che cercate che è già dentro di voi. Quindi onorate con amore e accettazione tutto quello che vi ha portato a questo momento di autoconsapevolezza. Quindi l'avvenire si sta svelando come una rosa rossa che sboccia sotto la luce lunare. Guardate, queste due carte hanno in comune la luna e la magia. Quindi qua, diciamo, andando un po' a sintetizzare il significato di queste due carte, qua voi siete in un momento veramente magico, ma magico per poter capire effettivamente cos'è che volete. Cioè qual è la vostra quasi missione in questo momento nella vostra vita. Quello che dovete decidere di fare. Ora andiamo a vedere con le carte oracolari. Prenderemo anche con questi oracoli di Ellen. Prenderemo due carte così per vedere ancora. Qui ci stanno intanto queste prime quattro carte scelte. Ci stanno parlando di voi, di come voi state superando un momento. Ecco qua, guardate, sono uscite le due carte che io volevo prendere. Allora, qui ci parlano queste due carte di impazienza e insicurezza è dovuto a una relazione a distanza. Quindi qua, questa carta dell'impazienza e dell'insicurezza vi anche dice che dovete avere invece pazienza perché la pazienza è la vera forza, no? E la forza anche della persona debole. Mentre invece l'impazienza può essere a volte anche la debolezza della persona forte. Quindi, ah, guardate qui anche qui. No, vabbè, oggi le carte fanno un po' come gli pare, eh? Ragazzi, progetti contrastanti. Quindi qua voi siete impazienti per una situazione a distanza, per una relazione a distanza e quindi avete impazienza e insicurezza riguardo a questa relazione. E avete questi progetti contrastanti, vedete? Adesso vediamo ancora che cosa ci vogliono dire. Facciamo così, così faremo pure un po' di spazio. Aspettate, leviamo l'elefantino, lo mettiamo qui. Allora, andiamo a vedere adesso con le sibille se ci danno qualche altra informazione riguardo a questa situazione. Quindi, che altro ci volete dire? Beh, qua sono uscite troppe carte. No. Anche perché poi dopo io queste carte le voglio approfondire. Ecco qua le due carte che io volevo prendere. Quindi qua abbiamo la carta della fedeltà e la carta del bambino. E a fondo mazzo qui abbiamo la carta del pensiero. Quindi qua sicuramente c'è da parte vostra, avete questa devozione, questa aspettativa. Vedete qua è come se voi inconsciamente state aspettando qualcuno. Vedete qua c'è un cappello, voi siete in attesa che questa persona venga verso di voi. Di qua c'è un pensiero, una riflessione, una meditazione in questa situazione. E voi come se state credendo in questo progetto. Vedete con la carta del bimbo. Il bimbo ci parla di crescita o anche di una nascita, di un progetto, di un qualcosa che noi, dentro di noi, aspettiamo. Quindi è come se in questa stesa, fino adesso, abbiamo visto cosa? Abbiamo visto che voi incominciate a stare bene. Perché vi state rigenerando, va tutto bene. Quindi state risalendo la china. E siete qui, avete fatto un percorso spirituale molto forte. La sacerdotessa e la luna ci dice che siete nel pieno del vostro potere. E anche state per decidere, avete già deciso qualcosa che vi ha portato, appunto, in questo momento a stare bene. Però ancora dentro di voi c'è una sorta di impazienza. C'è ancora qualcosa, un focolare riguardo a una relazione a distanza. Quindi andiamo a vedere, adesso, in questo momento, andiamo a prendere un approfondimento e vediamo. Scusatemi, ho avuto un attimo. Allora, io andrei, come prima cosa, ad approfondire questa carta dell'impazienza e dell'insicurezza. Allora, perché siete impazienti e insicuri? Vediamo cosa ci dicono i tarocchi. Perché qua, con il 10 di spade, probabilmente, avete avuto una situazione di chiusura. A fondo mazzo abbiamo il 6 di coppe. Quindi sentite molto la nostalgia di questa persona. Quindi qua siete voi che siete impazienti, siete insicuri. Per quello che state vivendo in questo momento, cosa state vivendo un 10 di spade? Vedete, siete proprio addolorati. Il 6 di coppe invece è la carta, vedete, della nostalgia d'amore. Quindi siete ancora, avete questa nostalgia per questa persona. Quindi siete un po' impazienti, insicuri. Vediamo questa relazione a distanza. Insomma, che tipo di relazione qua state vivendo, eh? Quindi che cosa vuol dire questa carta? Ne esce una. Ecco qua, 10 di coppe. Quindi voi sicuramente in questa relazione era una relazione probabilmente importante, una maturità. Vedete, aspettate il ritorno. Ecco qua ragazze, questa è la carta del ritorno. Vedete il giudizio in queste carte rappresentato in questo modo. Quindi voi avete una relazione lontana, siete impazienti, state soffrendo 10 di spade e 10 di coppe perché avevate un qualcosa che non avete più. Qua potrebbe trattarsi anche, perché no, di una famiglia. Perché comunque il 10 di coppe, vedete, racchiude anche il focolare, la casa, i figli. Oppure in ogni caso, diciamo, rappresenta la maturità sentimentale. Quindi anche se questa persona non avevate né figli e né cose del genere, però comunque era un rapporto giunto alla maturazione sentimentale. Insomma, eravate molto presi da questa persona o forse questa persona probabilmente vi ha fatto credere di avere o volere con voi una progettualità. Adesso con la carta del ritorno, guardate, sotto abbiamo anche, credibile, il 4 di bastoni. Comunque con la carta del giudizio, qua mi viene di pensare che voi sperate tanto a un chiarimento, a un ritorno, a una nuova situazione che si possa riaprire. Vediamo un po', qua è comparso, avete visto per un istante, anche il 3 di spade. Stavo cercando di capire questi progetti contrastanti, cioè questa carta appunto dei progetti contrastanti. Perché viene fuori questa carta? Cosa ci vuole dire? Madonna ragazze, se era visto prima, io rimanco basita, basita ragazze, io rimanco basita. Se era visto prima, non so se qualcuno di voi ci ha fatto caso, tornate indietro nel video perché è veramente emblematico. Se era già rigirata questa carta, io l'ho rifatta stare dentro, ma quando una carta deve uscire, per questo dico sempre io, quando la carta deve uscire, esce. Questi progetti contrastanti sono dovuti alla sofferenza di una chiusura, vedete qua c'era, la chiusura già c'era, ma qua c'è proprio un dolore forte ragazze. Vedete il 3 di spade, ci parla di un grande dolore. E qua ci si vorrebbe, guardate, 3 di spade, 3 di denari, 2-3 completamente opposti. Qua ci si vorrebbe nuovamente, vedete, ricostruire un qualcosa, riprogettare. Quindi questo è il motivo per cui voi, insomma, state così, no? Ecco, allora adesso andiamo ancora a vedere. Qui viene la carta della fedeltà, quindi adesso qui escono delle carte che sono positive, quelle delle sibille, no? Vediamo un po'. Quindi la fedeltà, questa carta della fedeltà, delle sibille, che cosa ci vuole dire? Ci vuole dire che qua c'è un cavaliere di bastoni, vedete, un cavaliere di bastoni che ancora vi pensa, ha devozione, vorrebbe un'amicizia, vorrebbe un qualcosa con voi. In questo momento con l'eremita, vedete, questo cavaliere di bastoni che viene, insomma, sta lì pronto a venire. E quindi qua c'è questa sorta di fedeltà, di devozione nei vostri riguardi. Perché quindi il cane significa che questo cavaliere di bastoni vuole venire verso di voi, però al momento è isolato, cerca di capire l'eremita, cerca di avere chiara la situazione nei vostri riguardi. Qua guardate, si vede anche un tre di coppe, ok? Quindi qua sicuramente ci saranno stati, probabilmente questo cavaliere di bastoni potrebbe anche aver agito in maniera un po' dubbia nei vostri riguardi. La comparsa del tre, tre di spade, tre di coppe, ci fa capire anche che probabilmente questa persona potrebbe anche aver chiuso per un'altra donna, per altre situazioni, o forse non voleva impegnarsi. Non c'è dato di sapere al momento. Andiamo a vedere, comunque l'energia del cavaliere di bastoni è un'energia passionale, però questa persona ha per voi questa passione. Vediamo un attimo ancora questa carta del bambino, che cosa ci porta. Quindi quale crescita o progetto o nascita, cioè che cosa significa questa carta in questa stesa. Abbiamo un otto di spade. Qui non ci sarà un vero movimento, come dire, un movimento di crescita al momento, anche se lo si desidera, però al momento si è bloccati. Vedete? Qua c'è questa persona bendata, che è circondata da spade e non vede la luce. Non la vede. La luce c'è, ma non la vede. Quindi questa persona è chiusa un po' in suo schema mentale, o forse è impossibilitata di venire verso di voi. C'è qualcosa che va oltre la sua volontà, che gli impedisce di venire verso di voi. Però con il cavaliere di denari, e guardate sotto abbiamo anche la carta degli amanti, no? È pazzesca questa stesa. E con il cavaliere di denari, lui non esclude, lui e lei, non esclude un domani di farsi avanti, quando magari avrà le idee più chiare riguardo appunto a questa situazione. Adesso andiamo ad aprire questa carta della riflessione, della meditazione, del pensiero. Avete visto che anche prima è uscito l'eremita, quindi sembrerebbe che qua qualcuno è fermo a pensare, a decidere cosa fare. Vediamo questa carta del pensiero. Ecco qua c'è la carta delle stelle. Quindi qua si sta pensando cosa? A una realizzazione, vedete? Qui abbiamo un fante di denari. Quindi anche se sembra che le cose non si muovono, sembra che tutto è fermo, e in apparenza lo è, ma diciamo anche in realtà tutto sembra fermo. Però qua l'energia del pensiero, della speranza di poter riprendere questa situazione c'è. Ora io non vi posso dire che qui insomma questa situazione si evolverà in tempi brevi, anzi, penso proprio che ci vorrà un po' di tempo per evolversi, però, e non vi posso neanche dire poi in definitiva se ci sarà effettivamente una, diciamo, di soluzione della situazione. Però io vedo che questa persona ci pensa. Vedete? Il pensiero c'è, la stella c'è. Quindi questa persona ci spera, ci pensa. E sicuramente, vedete? Qua ritorna la papessa, guardate, incredibile questa stesa. E c'è anche l'asso di coppe. Incredibile questa stesa. No, questo è il mago, sì, è il mago, perché ci sono tutti gli elementi. Allora, cosa volevo dirvi? Volevo dirvi che comunque questa persona, probabilmente in maniera molto, ma anche un po' superficialotta, diciamo così, tenderà in qualche modo di riallacciare con voi. Credo che possa succedere ciò, perché comunque qua ci si soffre tanto e non siete solo voi a soffrire. Qua sono uscite delle carte di spade abbastanza significative. Quindi ci sono questi ricordi, ci sono, c'è questo dieci di coppe, che qua è molto significativo. Per cui io ritengo, vediamo un po', prendiamo anche gli angeli del cuore e vediamo un po' se questa situazione avrà una risoluzione. Vediamo che ci dicono questi angeli del cuore. prenderemo una carta per un consiglio. Vediamo un consiglio che ci viene dagli angeli del cuore. Quindi che altro potete farci sapere su questa situazione? Vediamo che altro ci può far sapere da questa situazione. Andiamo un po' a vedere. Prenderemo una carta così a caso. Conoscersi. Quindi qua, vedete, qua bisogna conoscersi di più, parlarsi. Qua bisogna il consiglio che vi danno queste carte è di svelare l'uno all'altro il vostro sé più nascosto e rafforzare il vostro legame. Quindi voi dovete un po' anche magari da questa situazione imparare, perdonare, perché no? E lasciare andare, insomma, il passato per risanare e per avere più amore nel presente. Quindi in ogni caso, questo è il consiglio che vi danno le carte in questa stesa. Ragazze, ragazzi, che dirvi? Io ho terminato, queste carte mi hanno detto tutto. Riflettete, insomma, andate un po' a fare una riflessione su questa stesa. Fatemi sapere se è risuonata in qualcuno. Sono molto curiosa di saperlo. L'energia, più o meno, è sempre quella di una situazione sentimentale da risanare, anche se gli elementi sono diversi. Comunque, fatemi sapere. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Fatemi anche sapere nei commenti se questo genere di interattivo vi piace, così senza domande, no? Oppure se vi piace questo, ma vi piace anche quello che faccio le domande. Insomma, datemi qualche vostro suggerimento, qualche vostro gradimento, perché visto che comunque per me è uguale fare un video anziché un altro, magari cerco di venirvi incontro nelle vostre preferenze. Io vi ringrazio di essere stati con me, vi do appuntamento a tutti gli altri miei interattivi. Un bacione enorme dalla vostra Zahira. Ciao!